E' partita lo scorso 13 maggio dalla frazione Lago la campagna di ascolto con i cittadini organizzata dal candidato a sindaco per le prossime amministrative del comune di Castellabate Domenico di Luccia. Una campagna di ascolto grazie alla quale si potrà finalmente di persona mettere a confronto le nostre idee sul futuro di Castellabate di Chiara di Luccia. Ringrazio i cittadini che hanno preso parte all'incontro per aver condiviso con noi le loro proposte e le loro idee di crescita per il territorio. Uniamo le forze, sottolinea Domenico di Luccia. Nel rispetto delle restrizioni del Covid-19 gli incontri, che si ripeteranno nei prossimi mesi più volte per frazione, saranno organizzati per rioni e previo invito scritto. Ricordo a tutti, conclude Domenico di Luccia, che è sempre possibile inviare idee o suggerimenti per il prossimo programma elettorale attraverso il numero WhatsApp 320 08 42 487. Mettiamo in circolo le idee. le nostre saranno il motore di tutte le sfide che ci attendono, conclude Domenico di Luccia.